Al Via L'Aquila, le vaccinazioni più piccoli nella fascia 5-11 anni, 179 i primi bambini in provincia ad essere vaccinati, 73 nel solo centro di San Vittorino, che è quello riservato a loro per tre giorni alla settimana, mercoledì, venerdì e sabato, in una fascia pomeridiana in cui si faranno solo ed esclusivamente i vaccini ai piccoli, tranne qualche eccezione. Un percorso protetto e una buona risposta, nonostante qualche timore. La ASL1 ha organizzato delle corsie preferenziali per i bambini in tutta la provincia e oltre a questo si stanno mettendo in campo anche delle iniziative, stringendo rapporti con associazioni del posto, che saranno presenti nel lab vaccinale all'Aquila per alietare la presenza dei più piccoli. Per fortuna già le adesioni hanno risposto bene, abbiamo avuto quasi tutti gli slot pieni per oggi e nelle prossime giornate penso che ci sarà l'effetto rompighiaccio e quindi mi auguro che dopo questi primi giorni ci sarà anche un incremento delle richieste di vaccinazioni. Abbiamo attrezzato un percorso che è dedicato a loro, nel senso che abbiamo chiuso l'ambulatorio per l'adulto, tranne qualche seconda dose e qualche altra vaccinazione che era già programmata, ma i bambini verranno accolti con un percorso dedicato, una somministrazione dedicata e poi abbiamo preso anche contatti con associazioni che si occupano di attività ludiche, in modo da poter rallegrare anche nella fase post-vaccinazione e l'attesa i piccolini con qualcosa che faccia associare la vaccinazione come un evento positivo come poi effettivamente è. Nel fine settimana si dovrebbe arrivare a vaccinare in provincia più di 200 bambini, ad accordirli a San Vittorino anche un bell'albero di Natale nel centro vaccinale e tante caramelle in arrivo per loro.